Musica Alle prossime elezioni del 15-16 maggio mi presenterò come candidata di Sinistra Ecologia e Libertà appoggiata dalla lista di rifondazione comunista. Il mio obiettivo è quello di puntare ad una decisa inversione di tendenza rispetto al governo del sindaco uscente perché ritengo che la politica fatta in questi anni abbia portato il Paese ad una situazione di gravi difficoltà sociali, economiche e politiche. Ne è dimostrazione la diminuzione della popolazione sotto i 15.000 abitanti, l'esodo di giovani che privi di prospettive per il loro futuro lasciano il nostro Paese, l'aumento di disoccupazione e, ciliegina sulla torta, lo sforamento del patto di stabilità di ben 1.058.000 euro a dimostrazione di una sbagliata gestione della cosa pubblica. Questo è lo scenario preoccupante che si troveranno davanti i nuovi amministratori e dal quale nonostante tutto bisognerà ripartire. Il mio impegno si focalizzerà sulle emergenze che vive il nostro Paese, con particolare attenzione alla questione lavoro, visto che la crisi economica ha influito negativamente anche sul nostro territorio con la chiusura di molte piccole e medie imprese, creando un elevato stato di disoccupazione. Bisognerà quindi ripartire da qui e mettere in atto delle politiche sul lavoro per mettere in moto l'economia del nostro Paese. Sarà mia intenzione poi intervenire anche sulla questione casa, che è uno dei principali motivi per cui i giovani, in particolare, lasciano il nostro Comune. Il costo delle case è diventato esorbitante e per un Comune come Cavarzere, che offre pochissimi servizi e poche prospettive di lavoro, la cosa sta diventando un po' pesante. Cercheremo di intervenire attuando un'edilizia popolare, che comunque è prevista per legge e non è mai stata attuata dall'amministrazione uscente. Un'edilizia popolare che possa permettere a chi deve acquistare una prima casa di comprare dal Comune aree urbanizzate a prezzo di costo e non invece a prezzo di mercato, come si fa attualmente. Un'attenzione particolare poi andrà anche al sociale, un settore molto sensibile e molto delicato. Con il sociale non intendo solo la sfera degli anziani, autosufficienti e non, ma anche il mondo della disabilità, che in questi anni è stato trascurato e sottovalutato. Allo stesso modo mi impegnerò a sostenere il mondo della scuola pubblica, che impoverita economicamente e provata da numerosi problemi di gestione, causato dallo scempio del decreto Gelmini, si trova ad affrontare situazioni veramente difficili. Osservando poi la realtà giovanile, mi sono resa conto che è sempre stato dato poco spazio. Il nostro territorio accusa la mancanza di strutture di aggregazione e per questo il mio impegno punterà alla realizzazione di spazi polifunzionali, ricreativi, culturali e sportivi. E a tale proposito mi impegnerò per la realizzazione di un palazzetto dello sport in grado di favorire la pratica sportiva con il sostegno di impianti e di strutture adeguate. Infine non trascurerò l'ambiente. Il nostro è un territorio che ha già pagato dal punto di vista ambientale ed ora è tempo di prendere coscienza che il modello di sviluppo che si sta portando avanti con la realizzazione di impianti dannosi e inquinanti per il territorio deve essere sostituito con un modello di sviluppo basato su una politica energetica fondata sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. A questo proposito metteremo in atto tutte le iniziative che ci permetteranno di incentivare l'utilizzo di queste energie pulite. Occorre quindi un grande impegno e una grande serietà che da parte mia non mancherà nel fare tutto quanto è possibile nell'interesse dei cittadini di Cavarzere che invito appunto a sostenermi il 15 e il 16 maggio perché credo, ne sono proprio convinta, che Cavarzere meriti molto di più.